Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo, il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i Suoi discepoli, diceva Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati Beati voi, che ora piangete, perché riderete Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'Uomo Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti Ma a voi che ascoltate, io dico Amate i vostri nemici Fate del bene a quelli che vi odiano Benedite coloro che vi maledicano Pregate per coloro che vi trattano male A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica Da a chiunque ti chiede E a chi prende le cose tue, non chiederle indietro E come volete che gli uomini facciano a voi Così anche voi fate a loro Pace bene amici e ben ritrovati in questa sesta domenica Dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano Il discorso di Gesù in questo brano del Vangelo È il discorso del monte o sul monte È il discorso delle beatitudini Che ci incute un po' di timore Nel senso che ci sentiamo molto lontani da questo stile di vita Da questo atteggiamento di benevolenza, di amore Di amore al nemico Amate i vostri nemici Fate del bene a coloro che vi perseguitano E questo è il discorso che Gesù fa Rivolto ai discepoli Ma rivolto anche alla folla Quindi non è un'esigenza tipica della sequela di Cristo Del discepolato Ma è un invito, un comando Da parte di Gesù Rivolto a tutti quanti Beati voi che siete poveri Beati voi che siete perseguitati Beati voi che avete fame Eccetera 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 E questo atteggiamento Questo stile Che il Signore ci invita ad assumere E questo impegno Che il Signore ci invita a prendere Dentro la quotidianità Veramente ci spaventa Perché ci sentiamo lontani Ci sentiamo imperfetti Limitati, fragili Ma non all'altezza Di questo richiamo di Gesù Di fatto bisogna sempre tenere presente Che il Signore è con noi Non siamo mai da soli A camminare Dobbiamo seguirlo E Lui lentamente Giorno dopo giorno Ci darà la forza Ci darà il pane quotidiano Materiale e spirituale Per riuscire a seguirlo A camminare dietro di Lui Ma di fatto noi ci sentiamo spiazzati Perché? Perché vorremmo fare giustizia Non ci va bene Che le cose funzionino così In fondo in fondo Non solo quando subiamo il torto Direttamente Ma anche quando il torto Lo subiscono gli altri Noi abbiamo questa pretesa Nei confronti di Gesù Cristo Che Lui si erga subito Come giudice E faccia giustizia subito E invece il Signore Pur denunciando il peccato e il male Ha sempre un atteggiamento Di misericordia Nei confronti dei peccatori E il guai Il guai Guai a voi ricchi Perché avete tutto Guai a voi che avete La possibilità di stare bene Che siete sazi Perché? E' un guai che però Va anche tradotto Così almeno Dicono gli esperti In un altro modo Una specie di Ehmè Che il Signore fa risuonare Nei confronti di coloro Che non si comportano bene Cioè è come se Gesù dicesse Mi dispiace per voi Perché siete nella morte Perché voi che avete fame Sarete saziati Voi che sarete perseguitati Per causa mia Per voi è il regno dei cieli Ma voi che siete in un'altra situazione In questo egoismo In questo stile di vita Chiuso Guai a voi Ahimè per voi Perché siete nella morte Il Signore però ci aiuta A fare sempre una distinzione Cosa che noi Non facciamo mai O quasi mai Vale dire che Il richiamo ad una giustizia Ad una oggettività Ad un comportamento giusto Noi lo ritroviamo sempre Sulle labbra E sull'insegnamento Nell'insegnamento di Gesù Gesù sempre sprona il bene E dice sempre quello che è male Chiama le cose per nome Pane al pane Vino al vino Il vostro linguaggio sia Sì sì No 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 Mangia però con i peccatori Con i pubblicani Le prostitute E ha sempre un atteggiamento Di misericordia Nei loro confronti E questo dobbiamo mutuare Da Gesù Cristo Dobbiamo imparare A discernere Ciò che è La persona E Il male Che questa persona Compie Usare la stessa misericordia Che il Signore usa Nei loro confronti Ma anche Nei nostri confronti Perché Questa stessa misericordia Che il Signore Ci usa Di cui facciamo L'esperienza quotidiana Questa stessa misericordia Noi dobbiamo Riversarla Nei confronti Di coloro Che si comportano male Dentro questo Discorso Esigente Delle beatitudini Dell'amore al nemico Troviamo Però anche Uno spiraglio Di luce Di consolazione Perché Quando il Signore Ci dice Dice Diceva allora Ma dice A noi A noi tutti Oggi Beati voi Che siete perseguitati Perché grande sarà La vostra ricompensa Nel reno dei cieli E come si dicesse Si affermasse Guardate Che le cose Non stanno Per sempre così Non staranno Per sempre così Non ci sarà più Il male Ci sarà una Una vita Ci sarà una vita Eterna Ci sarà un momento In cui Verrete ricompensati Delle fatiche Compiute Verrete Gratificati Dall'avermi Seguito Quaggiù Sulla faccia Della terra Ci sarà un momento In cui Ci sarà giustizia Beati Se voi Avete vissuto Portando ogni giorno La vostra croce Dietro a me Perché grande Sarà la vostra Ricompensa Nel regno dei cieli E allora Con questa consolazione Possiamo cimentarci Con il suo aiuto A vivere Secondo la logica E secondo lo spirito Del discorso Del monte Pace bene amici A risentirci La prossima domenica Perchè A risentirci